Se contagi e positività restano sostanzialmente stabili, il dato che anche oggi preoccupa è quello dei decessi. Ne sono stati registrati altri 16, così come era accaduto nella giornata di martedì, quando era stata superata la soglia degli 8.000 morti dall'inizio della pandemia in Puglia, regione nella quale cresce la percentuale di occupazione dei posti letto, secondo il monitoraggio Agenas. Anche se oggi ci sono due ricoveri in meno rispetto a martedì, si è passati da 690 a 688, mentre non ci sono variazioni rispetto all'occupazione delle terapie intensive, sono 36 i pazienti attualmente ricoverati. Sul fronte dei nuovi casi 5.773 sono quelli registrati dal bollettino epidemiologico del Dipartimento Salute, con una positività che sale al 16%, mentre sono 113.347 i casi attualmente attivi. Resta la provincia di Bari quella nella quale si registra il maggior numero di casi giornalieri, 1.974, seguita dalla provincia di Lecce dove oggi sono 1.188 i nuovi positivi. Sotto la soglia del migliaio di casi restano le province di Taranto con 876 nuovi positivi, Foggia dove sono stati registrati 687 casi, Brindisi che ne conta 567 e Labatt dove i nuovi positivi sono 397. Al dato complessivo vanno aggiunti i 54 casi di residenti fuori regione e i 30 di provincia non nota. Con i test processati oggi ci si avvicina alla soglia dei 10 milioni di tamponi effettuati dall'inizio della pandemia.